di Marciano Provinciale, che è il primo annuncio di un nuovo grande, il più grande evento di questo genere che la scuola italiana organizzi nel corso che c'è. Ci sono alcune delle persone che hanno contribuito direttamente ad organizzarlo, ce ne sono della scuola, di una scuola di diversa da quella che è normalmente piacevole di bullismo, non la scuola del gopsip o delle polemiche politiche. Per farla breve vi richiamo, nella vostra cartellina c'è un foglio che si chiama insieme con la scuola per educarci tutte le organizzazioni che hanno, voglio ridurre, di fare una presentazione formale. Allora intanto partirei da una buona emergenza, ma per noi questi sono poi i dettagli, ma di tutto questo percorso che è nato ad Assisi presso il Sacro Convento, con la rivista di San Francesco, ma che quest'anno Giglio e il padre Enzo, che conoscete benissimo, che sono un po' i tuoi studenti e insegnanti che vengono dalle diverse città.